Un viaggio ancora, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della nostra regione. Sulla 11 tra Capannori e Lucca Est un veicolo è fermo in direzione Pisa. Altro veicolo in avaria questa volta sulla variante di Valico, tra Aglio al chilometro 255 e Firenzuola in direzione Bologna. Rallentamenti anche qui per un veicolo fermo sulla Fipi Litra, San Miniato e Montopoli-Valdarno, direzione Livorno. Veniamo ai treni a causa del maltempo sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve. Ci sono cancellazioni e variazioni. Infine a Firenze in via Zannetti per un cantiere edile chiusa nel tratto via dei Conti via dei Cerretani. Per la viabilità alternativa sarà invertito il senso di marcia da Piazza Madonna degli Aldobrandini verso via dei Cerretani. Non ci sono altri aggiornamenti al momento. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.